Una segnalazione arrivata agli agenti della questura da parte di un cittadino che riferiva di un incidente stradale in zona viale della Pace. Lungo il percorso gli agenti si sono imbattuti in un motociclista che andando ad elevata velocità non si era accorto della perdita d'olio del proprio mezzo, verosimilmente riferibile proprio all'incidente stradale segnalato, mettendo a repentaglio l'incolumità degli utenti della strada. Gli agenti gli hanno quindi intimato di fermarsi, ma l'uomo ha continuato la corsa. A quel punto l'inseguimento fino a Borgo Casale, dove è stato fermato, identificato e sottoposto al controllo con l'etilometro, che ha dato risultati di tre volte superiori al limite consentito. All'uomo è stata notificata la segnalazione alla prefettura per il ritiro della patente, è stato denunciato per guida in stato di ebrezza e sanzionato per il mancato uso del casco e per non essersi fermato all'Alt, impartito gli dagli agenti.